signore e signori salve a tutti quanti salve a tutti quanti benvenuti all'analyze desk di pg esports oggi è l'ottava giornata la fase di ritorno del campionato e sono come sempre qui accompagnato dal carissimo karen buonasera a tutti quanti e bentornati qui in nostra compagnia e dal nostro analyst di fiducia noodles e allora allora comincia la fase di ritorno comincia ad essere un momento importante di questa storia del campionato italiano e adesso dovremmo di nuovo sentire signor noodles che abbiamo visto muoversi e interagire ma non abbiamo potuto percepirlo in live ora dovremmo sì probabilmente ma va bene così cioè ci piace vivere nell'incertezza ti vediamo sei bellissimo possiamo comunque abbiamo che sei uno dei martin quindi perfetto così tornerà brevissimo il caro noodles ma abbiamo una giornata veramente veramente piena abbiamo una giornata durante la quale dovremmo andare a vedere quelli che sono i primi rematch e quindi direi che è arrivato il momento di vedere un attimo la giornata di oggi il calendario di partite che andremo a vedere e qualcuno dirà ma queste partite si sono già disputate sì perché questo è il gironi ritorno esattamente ladies and gentlemen un gironi di ritorno che si apre però con team che sono anche cresciuti tanto c'è un giorno è un giorno di ritorno dove noi vedevamo questa line up di partite nella prima giornata ed eravamo via tutto facile prediction proprio alla mano alla peggio l'ultima partita e oggi invece una di quelle che dovevano essere le prediction facili e il match of the week quindi sinceramente sono abbastanza incredulo di fronte a questa schedula oggi come prima partita del giro come prima giornata del girone di ritorno e tra l'altro abbiamo anche delle squadre abbiamo appunto la prima partita che poi vedremo anche dopo tra l'altro è molto intrigante perché abbiamo un team che ha partito bene e invece un team che ha partito male e adesso sono tipo al suo punto della classifica quindi già questo funziona come perfetto intro per quello che sarà un giorno di ritorno su questa lunghezza d'onda dove ci saranno continui capovolgimenti di fronte di classifica come è successo comunque un giorno è andata beh c'è da dire che la classifica è tutta molto ravvicinato ogni singolo membro all'interno della classifica è a pochi punti di distanza soltanto i maker se tu voglio guardare sono in cima con quei due punti sopra proprio ringraziano tip set ciao ragazzi è stato bello sì tutti gli altri sono lì dalla seconda alla settima posizione abbastanza infelici invece gli outplayed che godono dello stesso distacco dei makers ma in direzione opposta quindi per loro situazione davvero complicata un girone d'andata disastroso e che non ci saremmo neanche aspettati parlando appunto di cose inaspettate sulla fase iniziale del campionato e voglio anche aggiungere una cosa veloce sulla classifica che non so se mai fosse mai successo prima nella storia del pg nationals che alla fine giro d'andata come diceva anche ieri monboy sei squadre in una vittoria c'è una vittoria può potenzialmente effettivamente portare una squadra dal settimo posto al secondo posto è una cosa assolutamente mind blowing davvero davvero mind blowing ma sono curioso di vedere che cosa si inventeranno gli outplayed per provare a scontrarsi contro i cyber ground perché prima rob diceva è no cyber contro play dal giro di andata avremmo detto quello è il match più contestato invece ora sembrano i cyber che erano super potenti e gli outplayed un po dispersi nell'ombra è stata un'inversione di rotta adesso l'unica prediction che al girone d'andata era la più incerta è forse la prediction più certa della giornata perché i cyber ground hanno avuto anche loro un inizio un pochettino a rilento questo va detto però secondo me sono comunque tornati con la testa sulle spalle mettiamola semplicemente così non volevo mettere troppi giri di parole per un concetto semplice il punto è che i cyber ground dovevano trovare la loro identità ed è normale che con un team come quello dei cyber ground un team di cinque protagonisti creare la voce portante non sia facile e il girone d'andata neanche io mi sarei aspettato di vederlo performante dal day 1 perché appunto è un'amalgama difficile da mescolare gli outplayed dall'altro lato sono nel sono nel caos hanno perso totalmente la capacità di comunicare in maniera efficace durante la partita quanto stiano o meno comunicando non lo posso sapere da caster quello che vedo da spettatore della partita che non lo stanno facendo in maniera efficace è una cosa che voglio aggiungere primo su cyber ground e poi sui outplayed è che i cyber ground più che ancora che la coordinazione secondo me hanno un modo di draft più umile adesso non hanno più paura di dire anche se abbiamo cinque persone che possono carriare va bene che una carri come abbiamo visto con la felios draft la settimana scorso oppure anche ieri avevano messo un top laner come gabbo su un sion a fare a fare carne diciamo che è strano se ci pensiamo perché sono tutti giocatori che vorrebbero fare 1v9 ma lol non funziona così e loro stanno dimostrando aver capito la lezione le outplayed invece hanno fatto un una fine che non mi sarei mai aspettato appunto come c'era anche te in stagione d'andata era una squadra che forse da cui ci aspettava di più sul breve termine vista le basi solide invece hanno perso ogni forma di compattezza e quella poca che avevano trovato la settimana scorsa con dottor matt sembra essere nuovamente sparita nella partita di ieri beh dopo andremo a vedere che cosa succederà a questi due team se i cyber ground riconfermeranno le aspettative o se gli outplayed stupiranno ancora una volta tutti quanti però c'è un match molto spicy che è quello tra axolotl e makers sono davvero stranito dal dire che questo match è il match of the week e sono emozionato di vederlo perché non so che cosa aspettarmi ambo i lati è così strano perché all'inizio del campionato eravamo tutti gli assolotti si sarà figo vediamo come crescono e adesso sono qua che provano a scontrarsi contro i titani è gigantesco beh intanto abbiamo scoperto una cosa ieri ovvero che gli assolotti sono discendenti da antiche divinità azteche non quelle del fitness che sono care a jojo fans come me noodles ma comunque divinità azteche e i makers di per sé vanno ad incarnare comunque l'identità della divinità creatrice anche nel loro logo e tutto quanto quindi possiamo dire che il match of the week di questa settimana sia a livello narrativo uno scontro tra divinità e questo ci porta comunque sulla parte alta della classifica l'hai sottolineato fino alla scorsa settimana si poteva trattare anche di inseguimento adesso i distacchi si stanno comunque iniziando a manifestare i makers non chiudono la settimana con il timore di lasciarsi scivolare il primo posto unisci questa cosa al fatto che gli axolotl sono appunto i nuovi arrivati e il connubio potrebbe portare i makers a sottovalutare un po gli avversari e a lasciarsi andare in fasi centrali di partita e il mio augurio è che non lo facciano perché voglio comunque i makers sempre al 100 per cento per due motivi perché intanto sono uno spettacolo da vedere quando sono al cento per cento sono una squadra che quando va ad ingranare in partita ne dà veramente di spettacolo e si vede che lo facciano apposta a un certo punto ma poi perché voglio che i team eletti da questo pg nationals vadano a performare in europa questa è una cosa che sto dicendo dall'inizio dell'anno e voglio che i team sfruttino lo split per prendere quanta più esperienza possibile per presentarsi quanto più carichi possibile poi uno scenario che metterà alla prova loro come rappresentanti dell'italia e appunto parlando di questa partita penso che il anche pensa nei maker soprattutto non posso non pensare alla performance stellare in questo giro d'andata che ha avuto doxi che penso stato forse la prima volta che vedo proprio un giocatore pompato dall'inizio effettivamente avere un impatto così devastante su ogni corsia superiore con questo giocato e lo dimostra anche la grafica che abbiamo a supporto riguardante doxi che fai vedere effettivamente come sia primo praticamente in tutto e non è che abbiamo scelto le quattro statistiche in cui primo sono è letteralmente primo in tutte praticamente quindi anche difficile a sceglierle e il suo damage per minuto il suo damage share è assolutamente incredibile sono veramente altissimi e anche la gold difference at 15 ma questa è supportata anche da una gold 15 molto alta da parte di sat perché questo ci fa pensare come avremmo oggi probabilmente è una delle corsie superiori più divertenti da vedere sono due top laner che vogliono sottomettere l'avversario fin dall'inizio ma come si sa non può succedere entrambi le cose santo uno può vincere la corsia se se la giocano quindi chissà come andrà e soprattutto chissà come gli assolotti riusciranno a tenere a bada questa bestia gigante che sono i makers in pratica la top lane è golia contro golia 2 electric bugaloo il film sì sì è davvero particolare perché in questo momento abbiamo visto che sater è lì all'inseguimento a livello di statistiche ma intanto abbiamo visto l'ultima che secondo me anche la più importante che la quantità immensa di solo kill che doxy ha portato dalla sua come top laner doxy ha otto solo kill dalla quarta all'ultima posizione c'è una singola solo kill per top laner in campionato la seconda e la terza posizione si staccano solo perché ne hanno due e tre lui ha preso otto solo kill come top laner ed è vero che comunque spesso gli draftano strong side quindi è più facile rispetto magari a quei muri di ciccia che menzionava noodles prima prendere solo kill però è veramente un giocatore impressionante da questo punto di vista sater è l'inseguimento quindi oggi potrebbe essere l'occasione appunto per superare il maestro morale di queste statistiche però sarà dura e penso che tra l'altro gli assolotti se devono vincere questa pietà devono fare giocando di squadra perché l'evole di individualità la vedo difficile che riescano a essere sopra i makers in ogni corsia ma se gli assolotti ci hanno stupito per qualcosa è per la loro inventiva per le loro draft fresche che riescono a portare e per come riescono a eseguirle bene sono la giornata giusta quindi se tutte le stelle si allineano per questa squadra non vedo perché non possono riuscire a portare a casa un upset che se c'è una squadra che può farlo sicuramente loro sono di quello però adesso penso che sia anche il momento di parlare degli altri team perché comunque abbiamo altri match oltre a quello del match of the week si importa sì visto che ci siamo siamo tutti qua presenti abbiamo ad esempio il match tra Romulia e Machko che anche questo la prima settimana eravamo tipo beh sì sembrerebbe intrigante l'aspettativa di Machko e Romulia che cosa possiamo aspettarci poi i Romulia ieri abbattendo i Samsung Morning Stars hanno un po' rotto questa aspettativa perché dici ok i Romulia stanno davvero crescendo settimana dopo settimana dopo settimana e è una crescita costante passo dopo passo arrivi a contestare anche contro quelli che potrebbero essere delle palle curve come i Machko beh se consideriamo la partita di ieri effettivamente a un certo punto i Romulia hanno fatto collassare i Samsung che è più di sconfiggerli e basta perché sono stati in grado ogni volta che andavano a prendere uccisioni di tradurle sulla mappa di giocare manovre di strozzamento rimuovere la giungla avversaria rimuovere le scialuppe di salvataggio cioè praticamente ieri i Romulia stavano sparando sulla croce rossa mentre giocavano contro i Samsung stavano uccidendo i soccorsi che avrebbero permesso ai Samsung di tornare in partita e questo al di là della performance discutibile dei Samsung è un segno di maturità competitiva da parte del team quindi non è più solo un diamo un hyper carry a counter lasciamo che nonno eSport faccia il suo lavoro questo è un team che sta crescendo è bello vederlo crescere e una cosa che mi ha subito di Romulia è come riescono effettivamente sempre a sfangarla anche se non necessariamente hanno uno stile che si addice al meta che si conforma a quello che invece quello che vediamo sia nel pg sia magari nelle leghe maggiori ma nonostante ciò ha una coordinazione tale che sopperisce a questa loro mancanza sono curioso di vedere però se oggi sarà qualche contromossa la parte della squadra avversaria se magari si andrà a bannare quella le blanche su cui Vuzo sembra un giocatore di un'altra categoria quell'atrox su cui dei cui siamo giocatori in un'altra categoria è quella nida lì su cui Chris ma anche ogni ogni giocatore ha un campione main penso che bannarne almeno tre sia d'obbligo se vuoi mettergli per lo meno in una posizione di difficoltà quindi pensi più sulla draft come momento in cui tenere sotto controllo specifici giocatori piuttosto che la partita stessa esattamente concordo beh mancano ancora pochi minuti e a breve andremo a vedere le nostre prediction non ancora non ancora perché prima c'è da pensare ok samsung morningstar contro gg e esports samsung morningstar li vedo un po in difficoltà sto cercando di sperare bene per loro perché sembrano un bel team ma gli ingredienti non si mescolano bene insieme qualcosa non va io ai samsung scusa posso partire vai 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 perché sono facendo versi di disprezzo a caso ai samsung io comunque sto buttando la stessa idea diciamo un po in pasto da tre settimane di broadcast tipo se tf bannate giocate rice perché è quello fa la stessa cosa che vuole fare tf ma non hanno ancora capita sta cosa spero che oggi effettivamente sia questo cambio di passo perché hanno fatto vedere che twist purtroppo queen i milioni d'alto danno che devono vincere a lane non fa tanto bene serve quella utilità sulla mappa per provare a minare un po di coesione di pressione se riescono a fare questo possono tornare alla squadra che erano prima se no il baratro sembra sempre più vicino per loro e riescono a dipendere una strada a cui poi è difficile uscire vi faccio una domanda un po complessa che abbiamo ancora un minuto e trenta quindi voglio un po il vostro feeling proprio a caldo la corsia inferiore dei gg in esports secondo me potrebbe essere un grosso problema per i samsung secondo voi se fittolo riesce a ritirare fuori una performance come quella che abbiamo visto ieri sarà dura sì perché ieri è stata la giornata dei supporti ieri zuairo è stato l'unico giocatore non supporta da giudicarsi l mvp della giornata e fittolo non è la prima volta l'abbiamo anche intervistato e abbiamo delle indicazioni chiare su quanto possa essere la forza trainante il deus ex machina di questi gg in esports quindi sì assolutamente d'accordo con te sì ma nel senso che playstation comunque è un giocatore molto forte sui camp si supporta anche con molto disengage ad esempio trash che comunque comunque un fly alla box per riuscire a tenere lontani champion di engage la sessarelle magari può essere un campione che va andare a prendere quindi hans comunque una di cari che può vincere la lane se riescono a mettere la botta in una posizione di draft favorevole a quelle che sono le caratteristiche si può fare allora siamo negli ultimi 30 secondi vediamo le nostre predictions io ho delle aspettative molto alte per specifici team e vediamo se siete in accordo come oh noodles mi dai ragione su gg in esports sì io pensavo di non esserci oggi in realtà nelle prediction perché avevo chiesto di far partecipare mio fratello però a quanto pare non ha partecipato e comunque sì gg penso vinceranno e visto che i match con non posso votarli per farli vincere devo votare avuto tiro mulea però per il resto penso che potrebbe essere una giornata abbastanza chi possa rialzare un attimo vi prego chissà chissà lo scopriremo poi perché signore e signori sembra che siamo già pronti per passare la parola ai nostri caster di fiducia presenti direttamente dallo studio di pg esports e di noise non voi a voi e grazie come sempre al buon terrenas siamo qui alla caster desca di noise moon boy per l'appunto pronti per l'inizio di questa seconda fase fase di ritorno di questo spring split 2021 del pg nationals ci ha fatto caso che apriamo sempre queste giornate di ritorno ormai un bel po di anni sulla struttura del pg nationals noi prendiamo le seconde giornate tipicamente in studio quindi sì lo dico a questo punto festeggiamo e state pronti a stappare giro di boa siamo al giro di boa signori e signori siamo pronti per partire a samsung morning stars contro gg esports quindi andiamo a vedere un po le formazioni delle squadre abbiamo visto già i nostri analisi che ci hanno un po apparecchiato la tavola per quanto riguarda questo scontro delle delle prospettive molto interessanti per queste squadre perché dovrà esserci una ripresa da parte dei samsung morning stars se non vogliono un po tradire queste ultime giornate sicuramente faticose ma ci sono molte cose interessanti che ho avuto anche modo un pochino di spulciare a livello statistico per quello che ormai è il giro di andata concluso all'interno del torneo e abbiamo concluso quindi per questo primo girone sette partite per squadre ci sono quattro giocatori che hanno giocato in sette partite sette champion diversi e uno di questi giocatori lo vedremo nel primo game perché è playstation dei samsung morning stars che su quella botte ne ha visto una rotazione di stili talmente eccentrica che si porta ad avere un campione diverso per ogni singola partita e se ricordi un po anche dopo la la partita di ieri ho messo un pochino una critica forse quella stile così passivo quegli enchanter non particolarmente piacevoli vorrei vederlo riproporci anche qualcosa che abbiamo già visto ma qualcosa di confortevole qualcosa di playmaking qualcosa con cui possa creare delle azioni si trovi a suo agio in ogni caso eccoci qua in selezione dei campioni samsung morning stars al lato blue side gg ne esports al lato red side vediamo un po come sarà a livello di fase questa 11.2 ormai rispetto alla scorsa settimana quindi un po di cambiamenti abbiamo già visto anche senna tornare preposentemente come nel ck così anche qua nel pg nationals complice ovviamente la patch 11.02 si ha fatto qualche capolino all'interno delle draft abbiamo visto click riadattarla per i makers click era sempre stato un giocatore che quando senna era in meta tendeva a prenderla più per sé che lasciarla per gubi anche abbiamo visto nello scorso nello scorso split nello scorso anno quindi è una cosa che non mi ha nemmeno troppo sorpresa vedere proposte in quel modo dai makers però sto ancora aspettando che un team ci proponga la cara vecchia senna adcari anzi vecchia nuova adesso con uccisore di kraken e quella foria guinzo che sembra essere così innovativa così curiosa così efficace su di lei però per adesso si parte in draft in maniera molto tradizionale camille talia rimosse da un lato e dall'altro due campioni che non ci sorprende di vedere bannate entrambe altissima priorità già vediamo se poi il proseguo della del ban phase sarà un po sui jungler oppure su qualche pezzo forte che hanno messo in campo entrambi i team e io fossi nei samsung morning stars contro questi gg n sports un pochino inizierei a preoccuparmi non tanto perché gg n sports hanno dimostrato di essere una squadra temibile inarrestabile ma perché a livello di pezzi individuali molte cose funzionano molto bene sembrano di quei team che deve soltanto trovare la giusta combinazione ruotare il cubo di rubik nella direzione corretta e improvvisamente tutto ha senso tutto funziona benissimo e vediamo giocatori del calibro di taba fit all the east blocks per formare come ci aspettiamo che performino quindi questi samsung morning star soprattutto così in calo come li abbiamo visti nelle ultime settimane questo potrebbe essere addirittura la loro quarta sconfitta consecutiva che sarebbe tragico per la formazione devono rivedere un pochino alcune delle priorità è una cosa che possono fare fin da subito visto che non visto che vedo non hanno bannato la kaisa che gg n sports è stata così cara visto che taba ha giocato se non sbaglio cinque delle sette partite su quel campione sarà piccarla immediatamente via costringendo quindi il carry o uno dei carri principali di gg n sports perché abbiamo visto anche di east sa metterci del suo su qualcosa di un pochino meno confortevole in ogni caso vediamo per appunto la chiusura di questa prima fase di ban con twist fate rimosso pantheon dall'altra parte quindi un po di giungla ma anche alcuni pezzi molto importanti per entrambi i team in ogni caso che vengono rimossi quindi vediamo col twist fate così come anche quella serafine si twist fate ha menzionato molte volte da da noodles nel trovare un pochino quell'identità che possa funzionare per twist e paradossalmente sembra parte proprio del suo nome quindi qualcosa che ci può abbiamo qua twist abbiamo in nz che fate e entrambi giocano di state fate ci hai fatto caso è vero quindi prima o poi forse sono due metà del player perfetto dove non soltanto riunirsi e saranno il player perfetto sarà il prossimo faker ma un po come l'ora parte come la parte buona di al satan e quella cattiva esattamente esattamente in ogni caso udir che è sicuramente molto legato agli spirit e quant'altro udir che ormai qua in pg nation sta spopolando già arrivato a differenza di altre leghe dove a prescindere anzi nonostante un po l'identità di udir che gli piace correre gli piace andare veloce è arrivato un pochino tardi nel piccino ha preso il treno se l'hai presa non aveva livellato la forma d'orso mi sa l'ha fatto un pochino più tranquilla ancora dei primi livelli e pluxi stesso uno dei giocatori che ce l'ha proposto ieri con grande successo ieri due partite due vittorie quindi un successo ottimo per questo pic e quindi adesso i Samsung Galaxy sperano di magari catalizzare un po di quell'efficacia su di sé quella casa di cui ho parlato prima ancora non fa capolino nella delle squadre e penso sia abbastanza interessante anche perché i gg in esports qua avevano un'opportunità perfetta per prenderla al fianco di alistar alistar abbiamo visto fitto ieri ma non solo di cose capaci con questo campione e non vedevo veramente la necessità di andare a prendere subito e che visto che dall'altro lato già hai rivelato udir non penso che vadano a counter piccarti rubarti un e karim per metterlo top lane o qualcosa del genere quindi potevi invece tranquillamente prendere quella che è stata la tua che invece temo adesso soprattutto dopo il lock di rel vedere presa da enz rel playstation tutto l'aveva già giocata quindi questo sarà il suo primo repeat champion sarà il primo campione che giocherà più di una volta e devo dire in quanto a campioni che puoi giocare più di una volta è esattamente quello stile che voglio vedere se poi vuoi metterlo insieme a rel quel potenziale di engage quel potenziale di all in che su un giocatore come playstation penso possa rendere al meglio e arriva però appunto la conferma di kaisa che tra l'altro è una buona combinazione perché l'hai detto l'ingresso di rel nelle mani comunque di playstation la sua aggressività il poter tauntare tra virgolette stunnare più di un singolo campione va di pari passo con l'aggressività di enz e un campione anche come kaisa quindi enz di certo non si risparmierà di usare quegli istinti omicidi per cercare la backline e quindi assicurare quello stordimento di massa che solo rel insieme a kaisa possono effettivamente ottenere arriva comunque la scelta da parte di tabba a questo punto per quanto riguarda quella senna quindi sarà una senna riportata nel ruolo di carri da immagino sarà così ma di est ha giocato graves mid quindi se vuole proporre una senna mid io non so apro le porte anche perché sembra essere un particolare fan dei tiratori purtroppo le senna di carri che abbiamo visto per adesso non hanno funzionato benissimo perché se non sbaglio la giocata bullet ieri non vorrei non è andato molto bene quindi adesso tabba ha la possibilità di redimere un po questo pic pic molto interessanti per adesso soprattutto il trittico iniziale di samsung morning stars lo vedo un pochino più temibile sia perché kaisa rel è un'ottima combinazione mi piace rel uno stile del genere nelle mani di un giocatore come playstation udir penso sia molto versatile e molto particolare in questo momento come champion e si adatta anche bene alle esigenze che ha una kaisa di compagni durante il team fight qualcosa di tankoso qualcosa che possa setuparle un ingresso magari aggiungere stack di plasma qualcosa che possa distogliere l'attenzione da kaisa stessa e udir sa farlo benissimo seconda fase di ban che si concentra un po sui ruoli rimanenti che sono le solo lane da entrambi i lati mancano entrambi mid laner ed entrambi top laner quindi adesso si potrà iniziare a scavare un po di più nelle champion pool di questi giocatori volibir è quella è una rimozione interessante comunque andare a rimuovere volibir da una da una sicurezza se non altro agg nesports che in quella corse superiore dei dara non potrà sfoggiare uno dei suoi pic con cui ha avuto anche dei buoni risultati tra l'altro già volibir una vecchia gloria di dei dara in generale la vecchia gloria della top lane questi due ban mi fanno pensare che forse i gg nesports vogliono optare per un renecton uscite dalla seconda fase di ban visto che sia volibir sia graga sono specificati in risposta proprio al renecton e lasciare quindi il counter pick ancora una volta per la corsia centrale quel ban di azzir nei confronti di di east è un ban di rispetto ma non so se è perfettamente mirato perché di east ci ha mostrato comunque una grande versatilità su campioni su campioni più anche un pochino più aggressivi abbiamo visto tiratori abbiamo visto la sua tristana ieri terrificante abbiamo visto il solusi nel passato ho menzionato prima quel graves quindi sicuramente un giocatore che ha una pesante una grande profondità soprattutto negli mid laner da danno fisico forse la scommessa che stanno facendo i samsung morning stars in questa draft è che con già un un e karim e una sen rivelati senza quindi un'altra presenza di danno magico magari sulla corsia inferiore abbiano un po paura di inserire un mid laner da danno fisico anche perché arriva con renecton che menzionavo un po servono magico ai primi due ban adesso il danno magico direi che scarseggia abbondantemente nella comp dei gg e sports quindi servirà qualcosa per compensare quella mancanza bisogna vedere un po anche dai samsung su twist se voler mettere magari un orianna a forzare qualche altro pick da parte dei gg e sports altrimenti per i gg e sports un orianna andrebbe benissimo comunque come opzione di blind o meglio come sicurezza più che blind io non so quanto di east sia coraggioso però se qua effettivamente vediamo locato un mid laner da alto dps magico la composizione dei samsung morning stars diventa veramente pesante sui danni magi con kaisa che va ibridizzare del suo udir che vediamo nella forma attuale è un tank ma si basa principalmente sulla forma di fenice quindi danni magi dalla sua se di east vuole tirare fuori qualcosa come un cassadin vediamo ovviamente cosa proporranno i samsung morning stars prima però vediamo vediamo forse volando un pochino con la fantasia e con il fatto che gli hanno lasciato il last pick quindi mi aspetto qualcosa di un pochino più particolare non vorrei vedere la tipica sindra contro orianna in corsia centrale vorrei vedere qualcosa di un pochino più spicy e mancando quel forte a gioco la forte aggiunta in danno magico qualcosa che è proprio un attacco in scivolata sarebbe molto carino da vedere questo io ne così bruciato un latino fulla di bruciato tutta io non un po di anima gili fa con il secondo con l'altra spada magari sono magari prendiglione ma gli dici che non è ascoltami bene attacca soltanto con la mano sinistra la mano destra lascia vittor ovviamente una soluzione che ha molta priorità rispetto a nazir anche una stessa oriana o una sindra ormai lo vediamo victor il più delle volte viene piccato di base addirittura anzi molte volte vediamo un victor preso magari blueside la risposta immediata è quella oriana per essere un safe pick in risposta e poter farmare magari vediamo un campione che regge molto bene le fasi di corsia un ottimo wave clear un ottimo scaling soprattutto c'è tantissimo scaling in tutti questi due team devo dire la composizione di queste squadre non mi dispiace affatto da un lato e dall'altro penso che entrambi team si siano preparati con degli ottimi mezzi per trovare il loro successo penso che i samsung morning stars abbiano delle grandi combo all'interno della loro composizione una wombo combo paurosa potrebbe essere rel con l'ingresso la ultima attirata di avversari la shock wave di oriana poi la suprema di orni insomma hai un sacco di ultimate a grande area d'effetto molti controlli si concatenano molto bene si concatenano molto bene e poi si appoggiano pesantemente sul danno di quella casa la piccola nota di svantaggio per quella composizione anche appunto forse se casa non sta giocando benissimo non parte alla grande secolo riana rimane un passo indietro potrebbero mancare un po di danni dall'altro non ci sono tank estremi però c'è da sempre da menzionare questa questa eventualità perché comunque non c'è anche se non ci sono molti tanti e molto sustain ai campi nero e cari che può sostenere molto soprattutto l'interno di un team fight è un campione come senna che anche se gioca nel ruolo di tiratore soprattutto con le build moderne da che si appoggiano pesantemente sull'attac speed dopo i buffo allo scaling dell'attac speed di senna puoi andare a ridurre sempre di più il cooldown di quella sua cuda dell'oscurità perforante quindi sostenere ancora di più i tuoi compagni di squadra all'interno del team fight e poi soprattutto c'è quel potenziale di playmaking di fitto con il suo alister che c'è già mostrato ieri e che quindi va sempre tenuto in considerazione una prima draft che promette molto bene per il primo game di oggi sì devo dire che in realtà noto delle somiglianze comunque all'interno delle due composizioni perché oltre all'alto scaling che entrambe mettono da parte hai sempre quella piccola variante in un flash stordimento sia per nekton sia per lo stesso udir quindi quella componente che su questi campioni che comunque alto scaling ma alta fragilità devi stare molto attento a prendere un po le misure perché un'azione individuale di uno di questi due campioni può comunque girare la partita a favore se devo essere più sincero però c'è un pochino più di indipendenza lato gg in esports e un pochino più di tattica obbligatoria invece per i samsung e quindi quella concatenazione per quanto possibile a tratti anche quasi obbligatoria quindi vediamo vediamo signori perché è il momento finalmente di dirigerci sulla land di evocatori pronti per questo primo match di questa ottava giornata la fase di ritorno dello spring split pg nationals 2021 samsung morning stars contro gg in esports e come sempre quindi da casa con i vostri hashtag potete farci sapere per chi fate il tifo con hashtag sms win contro hashtag gg e win e come sempre potete anche andare a cercare di pronosticare il vostro successo con i pronostici di twitch per l'appunto per farmare o perdere un po di pg points il brivido il brivido il brivido della scommessa e in tutti i sensi perché questo pg nationals non sai mai veramente come potrà andare a finire quindi è un grandissimo salto nel vuoto e io stesso ho messo samsung ma in realtà neanche ci credo più ormai a quello che metto li metto ridendo quasi un po po folle ormai rido perché non ci credo neanche più io cosa potrebbe effettivamente accadere vedi lui se ne è voluto andare adesso capisci ora è cinque conto non è vero screzziamo ovviamente come sempre gli avvisi sono del passato un passato che ritorna nel futuro in ogni caso si comincia così il primo match 3 4 3 4 gg in esports se ti ricordi il talk show iniziale quello che per poi dare vita il giorno subito dopo all'inizio di questo pg nationals vedeva quei gg in esports sul lato basso della classifica in fondo mentre invece le stelle del mattino li vediamo lì nel su nel cielo della classifica e ora vediamo pari tecnicamente sono ancora sul fondo della classifica che è un fondo molto esteso allargato esatto è molto molto recluspato mettiamola così come ha menzionato anche dagli analyst c'è un singolo punto tra il secondo posto e il penultimo posto quindi già in questa partita chiunque vinca questo scontro sul pareggio del 3 a 4 arriverà a quelle quattro vittorie su cui presiede la squadra che in questo momento le squadre che in questo momento sono a pari merito ma lo sai che ma lo sai che gli hai con questa skin è proprio cute perché c'ha quelle zampettine tipo tutto attaccato capito è oltretutto per menzionare che un po di aggressione su taba una buona aggressione che forza addirittura subito la prima delle summoner dei genis forse della corsia inferiore la cura da parte di taba stesso più pozionecina o biscotto se voglia è una bella attacca una bella efficacia soprattutto qualcosa che non vediamo affatto spesso playstation non ha partito l'aggressione schiantandosi con la ferro manzia montata ma caricando da smontato a cavallo per avere quel boost di movement speed raggiungere quindi più rapidamente taba lanciare le sue spalle con l'auto attacca potenziato e permettere quindi di danneggiarlo un po questo può cogliere la sprovvista molti giocatori che l'erano contro rel perché ti aspetti che ci sia quell'engage con il crash dall'altro con i cc con lo scudo aggiuntivo per quel campione che in realtà non è arrivato e quindi ha dato la taba molto meno tempo di reazione un'ottima aggressione che punisce la dichiariversario si prende la sua guarigione e adesso dovrebbe rendere la fase di corsia un pochino più comodo abbiamo già visto la botlane di samsung per raggiungere quel livello 2 per primo mettere quindi molta più pressione sui loro avversari e guarda playstation come continua a giocare questa lane da smontato pronto a caricare avanti qualora ce ne sia il bisogno c'è però da ancora grazie a fitto il però taba è riuscito a rispondere un pochino di più ai danni ma è giusto deve essere così un'aggressione continua incalzante che non si ferma mai non devi dare respiro a un campione come senna altrimenti sai bene che fine fra lo scaling è dietro l'angolo è passivo ed è perenne ma l'aggressione si sposta ancora una volta con l'ingresso di jike lo stordimento su fitto al sottustione l'ultimo d'acqua sarà playstation ancora una volta a prendersi il primo sangue e qui suo vizietto non gli passerà mai comunque a playstation ancora ricordo giustamente due settimane fa neanche la settimana scorsa la triple con trash io continuo a ribadire che a playstation deve stare calmo calmino beh il setup delle azioni a lui e quindi la ricompensa se la conquista primo sangue tutto quello sempre diamogli questo piccolo boost iniziale anche perché ancora una volta è stato quella sempre lui quella carica la fermanzia da smontato che ti carica a cavallo ti dà col boost di movement speed lancia l'avversario a tue spalle con il prossimo auto attack e l'ha fatto perfettamente in risposta anche a un engage che purtroppo ha avuto un tempismo un po' sfortunato ma se ti ricordi ne parlavamo nelle prime giornate che vedevamo rel per l'appunto che c'era questa variante che ormai sembra essere quella più optata ovvero di partire con le aggressioni da da terra per poi salire su a cavallo con la feromanzia mettere a segno il proprio controllo diciamo ed è qualcosa che sono un po controintuitivo perché la wv normalmente al corroma da cavallo sembra fatta apposta per ingaggiare ma è anche molto prevedibile quindi facilmente schivabile e ti porta a essere vulnerabile è un esatto è un ottimo adattamento oltretutto giocando in forma smontata rello tiene quello scudo tiene tutte quelle resistenze bonus quindi anche il fastidio che potrebbe recare una senna con il suo lungo range con la combo di auto attack più può essere sempre un tank assolutamente ormai quella rel soprattutto se inizia ad accumulare un po di oggetti la sua diventa veramente veramente difficile da uccidere le statistiche di base che propone in tutti i suoi trade sono spaventose quindi partire alla grande su questa botlane sicuramente un ottimo segno per i samsung morning stars bisogna vedere un po come va anche il resto della mappa però perché la botlane non è stata mai il grande problema dei samsung morning stars spesso le altre corsie fanno un po fatica a spiccare dalla norma e quindi per adesso diamo un'occhiata a questa giungla questa mid lane dove ci sono qualche cs di differenza ma si parla semplicemente di spiccioli per adesso la top lane sta reggendo per trovarsi per trattarsi di un match up dove renekton vuole essere più potente nelle prime fose di partita e hai quell'assicurazione dal late game di orn che dovrebbe comunque assisterti anche perché poi dall'altro lato i gg in esports non è che hanno tutto questo grandissimo dps nelle game per eliminare un campione come orn perché senna dalla tua immagino sarà quella build da uccisore di kraken e furia di winzo quindi comunque basata sull'attac speed non la senna da letalità che eravamo magari abituati a vedere negli split passati ma comunque non è un campione che se la cava benissimo contro i tank si c'è poi da dire che comunque i gg in esports hanno un ingresso molto prepotente ma sul lungo andare per quanto comunque senna possa aiutare con danni continui e cure intanto non è lo stesso dps che può mettere in campo magari una caesar sono due dps molto diversi come output danni ma per il resto tolto di haste il vero danno continuo arriva prettamente da lui e da senna però anche lì in variante magari con una tempesta a disposizione la suprema da parte anche dello stesso dello stesso victor si bisogna vedere un pochino quindi come i gg in esports vogliono iniziare a prendere risorse in questa partita perché vedendo una composizione del genere mi aspetto che molto sia concentrato sulla top side almeno nelle prime fasi di partita ed è una cosa che per adesso non sto vedendo non in maniera così marcata se non altro poxy non ha avuto ancora inserimenti sta farmando ma sta mantenendo semplicemente il passo del suo avversario che ha anche avuto quella presenza quel capolino sulla corsa inferiore e nuovamente ci provano una volta l'aggressione gli ecco lo sordimento e sarà ancora una volta playstation a ottenerne l'uccisione beh che dobbiamo fare è assetato di sangue questo support playstation è il suo marchio di fabbrica a quanto pare ed è comunque cresciuto e lo vediamo crescere in una lane a fianco della di carry più assetato di sangue che abbiamo avuto nel pg nationals per molto tempo dici che quindi con lo zoppio impara a zoppicare mi sa che mi sa che è un po quella la situazione ancora una volta però un ottimo inserimento per andare a punire un un alistar che non solo sprovvisto di flash in questo caso perché vediamo l'ex flash ancora dalla sua ma oltretutto con la runa dello scatto fasico non hai nemmeno quelle resistenze aggiuntive dell'after show che puoi andare a richiamare con un semplice controllo molto difficile per fitto riuscire a sfuggire è anche un po rischioso questo tentativo inserimento perché tre livelli sotto twist non dico che possa rispondere con una solo kill ma occhio all'inserimento twist il no cap l'aggressione la trappola che viene quindi doggiata arriva comunque lo stordimento grazie ai passi di fitto e poi di ace con la propria suprema andrà a concludere l'uccisione proprio ai danni di twist ottimo ingresso e per proxy è comunque un assist già ben fatto e questo è esattamente quello che voglio vedere dai gg in esports pensavo appunto lavorare un pochino in più la top side insieme abbiamo victor abbiamo e carim abbiamo renekton falli partire nella del game non serve dare tutte queste risorse a sen anche perché non sarà lei il tuo carri principale e fitto l'effettivamente mi ricorda beh io sono un alistar io posso romare posso andare anch'io ad agire per creare pro attività per la mia squadra tanto meglio una kill nelle mani di victor e in questo minutaggio molto acerbo è fantastico anche perché le due decisioni dall'altro lato l'abbiamo detto sono nelle tasche del supporto quindi non è gold altrettanto ben canalizzato oh taba addirittura la ia l'utilizzata adesso il controllo un po di danni ma se non altro il la cosa bella di avere soltanto un danno effettivamente magico della corse centrale che dei dara avrà una facilità disarmante di itemizzazione fisica infatti abbiamo visto comunque anche solo avere quella piccola corazza in più il dato comunque modo di rispondere danni di tabo sì assolutamente in questo scontro diretto tra l'altro con orne contro una di carri immobile trovare la giusta distanza e giusti controlli beh molto facile poi andare a ferire pesantemente l'avversario infatti taba costretto a entrambe le summer spell difensive e qua sembra che si stia cucinando un dive ma blocci nelle vicinanze non voleva farsi spottare ma a tempo che playstation adesso l'abbia visto quindi ci sta che i samsung possano anche ripensarci visto che comunque dai vare oppure oppure andare direttamente su ploxi aggressioni istinti omicidi e dens a raccoglierne finalmente l'uccisione e a dare un marchio convincente tre le uccisioni per adesso di samsung morning stars con tanto di messaggero e drago dell'oceano già ben fatto qua hai visto la presenza del jungle avversario e il pensiero non è stato non possiamo più dai pare andiamo via è stato beh il jungler non è sotto una torre effettivamente ed è vulnerabile non ha quella ulti perché l'ha appena usata mille non ha un flash perché è un e karim con l'aspettato 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 tiriamo dritto è un ottimo ingresso da una kill questa volta nelle tasche di casa molto importante quella volta perché non c'era l'ustione questo giro per quello mi sa di sì però ancora volta playstation chiama raccolti i propri compagni tra l'altro quel no cap che dà la prima sacca di plasma utile per enzer poter volare direttamente sull'obiettivo come un rapace poco da fare per ploxi samsung stanno giocando molto bene la mappa e forse era quello che anche era un po' mancato nei primi questi in questi ultimi match si è un vedere una buona partenza così da parte di samsung è ottimo perché mi sembrano sempre un team che si basa molto un po sul momentum all'interno della partita per performare bene se partono bene spesso riescono a continuare bene se partono male a volte il proseguo è dannoso l'abbiamo visto una partita di ieri e dopo un po' quella botlane non riusciva a smettere di morire era un'aggressione continua ai danni di enza e enza si mostrava sempre più vulnerabile ma questo giro è lui che sta raccogliendo le kill e gli assist è lui che sta mettendo sta togliendo sta cancellando nomi dalla sua lista e quindi immagino che anche in un mid game anche in un late game lo vedremo molto più convinto il rago della montagna ha raccolto ovviamente i gg e sports a questo giro non si faranno cogliere preparati vediamo i samsung che se avranno voglia se non altro di rispondere perché ci sono tutti anche i teletrasporti dei top laner potremmo preparci a una bella battaglia si parte festation purtroppo non trova il no cap decisivo l'ingresso poi da parte di blocsi fin troppo esagerato gli siti vicini per poco blocsi non cade sotto i colpi del nemico il flash a partire d'ara ma intanto il il match up è in corse inferiore lo vediamo yak su onro il flash purtroppo libero adesso sotto i danni dello stesso enza gli ultimi due attacchi dei dara chiude su taba in fuga di haste blocsi in fin di vita così come fita la vittoria ai samsung morning stars altre due uccisioni tab e wondro e il drago due kill conquistate drago adesso raccolto ben fatto da parte di samsung morning star gestire questo team fight con la calma con la consapevolezza di un team che sa che hanno il vantaggio non hanno bisogno di correre non hanno bisogno di forzare niente sono i gg in e sports quelli svantaggiati in questo scontro e lo rivediamo nel replay perché per quanto nel gate iniziale sia stato un po' negato quel lecrim ancora molto vulnerabile guarda come si separa qua il fight con mondro che cerca di attaccare la backline avversaria ma il kiting di hands e playstation che lo protegge è veramente pulito mentre dall'altro lato dei dara ha già cacciato blocsi in fin di vita sta chiudendo su taba e twist che anche se viene leggermente zonato l'affitto non trova un inserimento perfetto continua a portare i suoi danni dalla distanza e non c'è risposta concreta per i gg in e sports che ancora non hanno abbastanza danni per scacciare la front line avversaria vantaggio che ora verte totalmente per samsung more il sars con le quasi 1000 gold ora superate con la capocciata di questo messaggero un po' di placche 3 in quella corsia centrale tra l'altro vedo hands con un doppio piccone nel suo inventario il che mi fa pensare che voglia prendere a di molto in fretta per potenziare la sua q ma non è andato per il lungo pugnale seghettato quell'oggetto che vediamo tipicamente andare a interrompere la build di kaisa per portarla a quel primo power up mi fa pensare quindi che non ci sia una volontà di collezionista come secondo oggetto oppure che semplicemente aveva roccolato con 800-900 gold invece di 1100 quindi ha detto prendiamo questo invece di quello sono scelte comunque questo metterà uno il tipico breve arresto nella build di kaisa che prima di chiudere quel suo primo oggetto va a optare a digrezzo semplicemente per avere le sue power up intanto però sono due uccisioni e due assist per hands sicuramente molto più avvantaggiato rispetto a un taba che per adesso 0-1-0 riporta il suo score non ottimale inoltre abbiamo avuto adesso la notifica o meglio adesso abbiamo notificato la presenza del drago infernale come elemento predominante connesso da U attenzione l'aggressione con l'onda d'urto che va a cogliere il bersaglio il knock up l'ultimo d'attacco per twist seppur pesantemente anneggiato alla suprema dello stesso di Ace raccogliere l'uccisione facile che ingresso da parte di Dana bella una bella una bella azione codiuvata insieme molto molto bella già un ottimo ingresso un ottimo roaming da parte del top laner e di Ace beh non aveva il flash quindi probabilmente ha pensato semplicemente non riesco a fuggire così facilmente tiriamo tutto quello che ho sul midriner avversario vediamo se riesco a scacciarlo vediamo se riesco a farlo desistere un po' da questa aggressione non è andata così sfortunatamente vediamo qua nel frattempo un po' il grafico dei gold con hands e di Ace abbastanza convincentemente in vetta alla classifica twist poco dietro anzi adesso persino lui supera il suo diretto avversario di corsia ma la bot lane principalmente dei GGNX forse è quella che soffre di più abbiamo menzionato la differenza che si sta per creare tra Enz e Taba nonostante Taba abbia già chiuso il suo uccisore di Kraken lo vediamo un po' svantaggiato per quanto riguarda le risorse effettivamente nella sua saccoccia occhio a twist addietro anche se non ha quella shockwave è pericoloso ha tolto metà vita Taba costretto quindi a un flash per riposizionarsi tetrasporto però che vieni comunque interrotto da Didala Deido Poggers dai danni di The Ace interrotto quel teletrasporto danneggiato potrebbe comunque riuscire a fuggire senza grossi problemi e così sarà per il buon Deido in ogni caso messaggero comunque è caduto nelle mani di Gini un vero peccato perché la comunicazione per adesso sta andando molto bene all'interno dei Samsung Morrisers e è un peccato perché quel teletrasporto ha fatto desistere i Samsung ma era un in vantaggio a livello di danni beh, sto gli Victor il loro non c'era sì, questo è vero sicuramente a livello di presenze c'era una differenza perché la mancanza di Horn soprattutto se è senza Supremo si sente meno della mancanza di un Victor soprattutto a livello di danni perché l'abbiamo menzionato i Gini Sport già li fanno un po' di fatica però se guardi un po' anche gli inventari soltanto adesso su questo recall Twins ha chiuso il suo dolore di Liam l'unico oggetto mitico che c'era era quel chemtank turbo quindi vedi che comunque i Gini Sport nonostante siano in svantaggio nonostante ci siano quelle 2000 l'unità circa di differenza hanno chiuso subito i primi hanno lasciato verso i loro oggetti hanno lasciato la power spike quindi in quel momento erano un po' disposti a dire abbiamo preso l'ultimo fight non abbiamo quei vantaggi che voi avete conquistato però abbiamo gli oggetti cosa che voi invece non avete ancora capitalizzato sull'ultimo team fight non tornando in base vero? e infatti ora vediamo effettivamente salvo per la D'Dara che immagino debba ancora tornare in base chiudere ancora un primo oggetto ma in realtà no perché comunque ha diverse componenti nel suo inventario di gara sì anche lui ha fatto quel pit stop sul corpetto i rovi e ha il grande vantaggio essendo Orn che non deve neanche tornare in base per forciarsi qualche oggetto ci pensa a lui ha fatto qualche verità qualche classe di DIY l'aggressione il doppio cap triplo poi con l'inserimento anche da parte di Enz tutti su di lui però qui Enz si espone terribilmente sotto Stione alla fine morirà se è interrotto le mani di Ploxy questo però permette comunque l'uccisione la particolare seggione dei danni di Taba l'ingresso poi da parte di Deidara un doppio look up come Birilli adesso l'aggressione con la volta Deidara sotto le fiammate Wondro a cadere Fittal in fuga Ploxy una seconda si è interrotta ma alla fine cadranno uno dopo l'altro double kill double crash per il Deidara per il Deidara nazionale twist in chiusura riesce a risultare a risultare al loro vantaggio c'è forse da fare qualche tirata ad orecchie ma dopo che hai goduto comunque del successo ottenuto rivediamo ancora una volta l'azione perché il setup dei Samsung Morningstar inizialmente era una bella combo l'entrata di Orianna con l'entrata di Rell però come ho menzionato Enz molto rischioso nelle scorsi infatti ne paga pesantemente prezzo ucciso dalle bruciature dello smite di Ekarim l'ingresso di Deidara con i suoi CC comunque crea un bel caos nelle composizioni avversarie e purtroppo il fatto che Deysi sia un po' andato a incanalare in questa strettoia da cui poteva fare DPS inizialmente ma poi è finito soltanto per essere colto da tutti i CC avversari non ha aiutato molto la causa occhio però perché si sta ancora fightando si sta ancora minacciando ancora una volta Deidara escluso ormai dal teamfight isolato dai propri compagni sarà comunque uccisione per uccisione scambio di bar Deidara muore così come anche il supporto dei Gini Esports il drago è confermato al soul point i Samsung Morningstars con un vantaggio disarmante ormai sulle 3200 o 3100 unità d'oro ma soprattutto con diversi oggetti ormai nell'inventario di chi conta veramente li vediamo per appunto due uccisioni per Twist tre addirittura per Hands tre per PlayStation che deve comunque mantenere il suo il suo key di A beh sì nello scorso fight ne ha preso un'altra ma semplicemente perché Taba stava fuggendo via e PlayStation ha dovuto lasciargli dietro per ucciderlo non è kill steal se la kill altrimenti non si sarebbe manifestata però sì Samsung Morningstars in realtà una cosa un po' curiosa che sta succedendo è che ci sono stati tre shutdown consecutivi tutti su ploxi tutti su ploxi esattamente questo è pericoloso non è proprio dove vorresti veicolare le tue risorse perché hai un Renekton a secco hai un Victor che vorrebbe vorrebbe veramente tanto fare di più e minacciare di più hai una Senna che sta facendo molta fatica da quella corsia inferiore e il fatto che mi stia raccogliendo tutte queste risorse significa che adesso un pesante mantello da carry si sta posando sulle sue spalle non è così facile al giorno d'oggi sfruttare quel campione a pieno se non stai snowballando fin dalla partenza ma vedremo vedremo nei prossimi team fight cosa riuscirà a fare perché ormai l'hai detto al livello di oggetti mitici si sta ormai completando praticamente uno a testa tranne per chi ha scelto di non andare in quella direzione come PlayStation lo vediamo con quella currazia dell'uomo morto Fittal considerato il tizione di bambino nel suo inventario immagino sarà un Alistar da Ken Tank Turbo quindi uno che vuole comunque ingaggiare inseguire e correre dalla distanza un Alistar bello Chad si più che altro infatti dicevo pericoloso perché non soltanto vai a posare il mantello su un Ekarem ma è un Ekarem che comunque è partito molto in svantaggio rispetto allo stesso jungler ha raccolto adesso tutte quelle uccisioni ma adesso potrebbe essere tardi quindi bisogna vedere diciamo che grandi responsabilità non solo di carry ma in generale proprio di entrata di ingresso per i geni esports con questo Ploxy quindi la sua Suprema la sua carica dell'isola ombra così come anche i suoi inserimenti all'interno del teamfight devono essere precisi non dico come prima perché è stato Enz più che altro a servirli un po' alla Suprema in faccia però dovrà cercare di isolare quanto più possibile o Twist o Enz sì assolutamente le tempistiche adesso purtroppo non stanno aiutando molto i geni esports perché manca meno di due minuti al prossimo Drago che sarà il Drago dell'anima per gli avversari vediamo già due oggetti completati sia su Enz che su Twiz quindi due carry principali di Samsung Morning Stars hanno le loro power spike Di Asta ha recentemente completato anche lui il bastone del vuoto però vorresti avere quella fuori di win su completa anche per Senna per Taba e come abbiamo menzionato questa game è diventata così importante quindi idealmente anche lui dovrebbe chiudere il pegno di Sterak prima di lanciarsi su quel teamfight cosa che non penso riusciranno a fare entrambi vista un po' l'obbligo di doversi dividere il farm e comunque i Samsung Morning Stars non stanno permettendo tanta libertà sulla mappa il team avversario senza contare poi che ormai siamo a 21 minuti e 40 Barone già posizionato e per quanto ormai mi piace sempre ripetere i tempi sono ancora un po' maturi cioè dire che ormai i tempi sono effettivamente o meglio a Cerby i tempi sono un po' invece maturi per quanto riguarda questo meta vediamo molte volte a 21-22 minuti cercare comunque un try sul Barone cercare di portarsi a casa magari quel favore e a volte succede riesce anche magari proprio sotto il naso del nemico quindi si dice a Cerbo sì ma se l'occasione è servita sul piatto d'argento perché non approfittarmi assolutamente assolutamente oltretutto con una Kaisal intanto della propria composizione che ha un grande DPS verso quel tipo di obiettivi e con uccisori di Kraken alla mano oltretutto Power Spike che comunque alla fine sono arrivate per GG in Esports spegnoli Sterak e Fruity Winzo sono negli inventari dei rispettivi proprietari con ancora una mangiata di secondi d'avanzo prima del prossimo Drago quindi si avvicina il teamfight parlavamo di tempi maturi sicuramente sta decisamente maturando il tempo di questo Drago anti-Dice ha investito addirittura il suo teletrasporto per raggiungere ancora più in fretta i suoi compagni di squadra su quella corsia centrale ma c'è area di scontro attenzione mio Dio però ai tani di distraide su Fittal devastanti su taba l'aggressione l'ingresso poi di Enz la capocciata per appoggiare semplicemente e assecondare quindi il suo fine trova un'uccisione poi un'ottima stanza il flash l'ottimo sorprendimento partì Yike esposti e isolati da di dare il trittico con Twister ormai soggiocato ai colpi di Gini Esports cadrà sotto i colpi di sott'interno di un'altra serie interrotta da parte dello stesso Ploxy ma l'aggressione continua perpetua su Wondro da sola non può fare nulla e adesso è Ploxy essere l'unico rimasto in vita con una doppia uccisione di Enza ancora una volta carneficina negata ma è successo per i Samsung Bornisar sul 15 a 5 visto che i Samsung hanno lasciato Yike solo soletto a completare il Drago questo sarà quell'anima di cui stavamo parlando ma ci sono Pink e Samsung e Morningstar si rendono conto ok il Drago lo puoi fare da solo però ci assicuriamo che non ci sia effettivamente che tu sia effettivamente solo che non ci sia una visita indesiderata sarà un'anima del Drago Infernale conquistata a 23 minuti e 45 una tempistica anche molto molto rapida ma rivediamo ancora una volta a questo fight con Vito che parte già svantaggiato ma la cosa principale è come il fight si va a dividere Vito purtroppo manca la combo di Alistar molto gravemente che è la Shenz a campo totalmente libero guarda qua Diez è solissimo e una volta che hai già perso il tuo unico carry non puoi veramente permetterti questo stesso comportamento verso l'altro Ploxy e Wondro erano sia alla ricerca di quella Kill Suriana e l'hanno trovata ma questo non è un duo che poi può carryare il fight quando i tuoi carry stanno perdendo pezzi a destra manca Diez comunque sta reggendo il passo con il suo farm con le risorse che riesce da trovare e Yike questo è trovato Yike cade sotto i colpi dei Genie Sports un teletrasporto molto atroce da parte del povero di Dara c'è quel flash knock up salva la vita grazie all'onda d'urto di Twist ma è un caro prezzo che vai a pagare già sono tanti cari prezzi la Kill Suri Yike che anche se dannosa per la sua squadra lo mette su uno score di 1-1-11 quindi molto stiloso il teletrasporto di Dara e il suo flash che per miracolo quasi lo porta in salva e anche il cronografo ma si riparte Enz è una volta la vittima l'aggressione i diversi sordimenti la carica di Isola Ombra Enz è in fin di vita l'ultimo d'attacco Enz serie interrotta Wondro aggressione capolino su Playstation l'aggressione comunque continua il favore va comunque a GG in Esports ma Enz è ancora salvo e l'ha rischiata non poco devo dire un ricciolo di HP e se non sbaglio è stato il proc del collezionista a dargli la kill sul suo avversario che lo ha salvato da forse un'altra macinata di Q di Akram quindi decisamente risicata questa azione ma se non altro i GG in Esports battono ancora una volta il ferro finché è caldo con lo svantaggio che avevano creato tra le fila dei loro avversari puliscono nuovamente e questa è comunque una buona ripresa è un buon regge il ritmo perché eravamo 15-5 poco fa adesso siamo 16-8 i GG in Esports si stanno riarrampicando anche se hanno perso con l'anima infernale la differenza tra queste due squadre è di a malapena 3000 unità d'oro quindi non qualcosa di insormontabile tutt'altro soprattutto se i GG in Esports continuano a giocare di squadra attorno a questo Victor DiAce ti ha già mostrato più e più partite quanto sia efficace come carry di questa squadra sì più di quanto adesso sono i Samsung che non devono smettere di continuare a pestare finché il ferro e caldo bisogna continuare a martellare e Orn lo sa benissimo questo quanto cabbro il capo il capo di tutto probabilmente l'ha inventato lui il proverbio c'è da dire che i Samsung Marners in questo momento comunque hanno il coltello dalla parte del manico e questo è abbastanza innegabile con tre oggetti su Kaisa tre anche su Orianna nonostante uno di questi però non devono perdere tempo non devono perdere tempo assolutamente o lascia il tempo di recuperare i GG in Esports più che altro la cosa che potrebbe preoccuparmi un po' è il fatto che abbiamo avuto un rush all'anima così rapido questo lascia un respond dell'Elder Drake del Drago Maggiore molto anticipato nel ritmo di partita lo vedremo arrivare attorno al 29esimo trentesimo minuto e se dovesse arrivare a una situazione attorno a quel miotaggio dove i GG in Esports hanno brevemente ripreso il controllo sulla partita conquistato la presa sulla tana del Drago e quindi si portano a casa l'obiettivo non importa chi abbia preso l'anima in precedenza quell'execute quell'aspetto del Drago Maggiore improvvisamente è a favore dei GG in Esports 18 Fight devono rispettarli Samsung-Morning Stars non importa quanto sia in vantaggio l'aggressione adesso sul barone danni che di certo non mancano alla composizione di Samsung con la Playstation che però richiama l'aggressione su The Ace polverizzato l'aggressione si sposta onda d'urto a due carica delle svele ombre cade però Hans i GG in Esports non ci stanno con gli ecchi isolato adesso in aggressione su Fittal Playstation e Twist come unico vero carry Ploxy sul flag double kill per Yike Twist a concludere il tutto e Ploxy ancora una volta solo soletto i Samsung scongiorano il pericolo e si portano ancora una volta sul barone sembra che questo sia il loro premio bellissimo engage da parte di Playstation che trova un The Ace impreparato flash up forse soltanto adesso forse è tornato durante l'azione dovrò controllare nel replay ma senz'altro un Victor isolato e distrutto molto bravo Playstation nel capire bene anche le tempistiche dell'engage di Rell perché è un campione molto molto più concessivo con i suoi ritmi di controllo di quanto potrebbe sembrare non c'è bisogno di tirare tutto insieme non c'è bisogno di accavallare i controlli di schiacciare l'avversario di avere fretta puoi prendertela un pochino con calma l'ha fatto ha permesso l'engage l'entrata di Yenz che anche se ancora una volta è entrato ha ucciso e si è messo in pericolo ha eliminato la più grande minaccia del team avversario e quindi ha lanciato tutti i GG in Esports nel caos praticamente Barone anima del drago un minuto al drago maggiore la partica sembra essere conclusa ma attenzione l'imprevista è sempre dietro l'angolo quindi occhio quel drago maggiore potrebbe quasi essere una trappola guarda quanto corre ancora più di Ploxy mio dio Udyr pazzesco come corre e continua ancora una volta non si ferma più la minaccia lo stordimento seppur silenziato ha anche stordito ma lui comunque non si ferma comunque non si arresta questo Barone addirittura con questa uccisione su Ploxy scongiura qualsiasi pericolo su quel drago maggiore ancora in aggressione i danni comunque non lo preoccupano è un tank è fortissimo è Udyr eh già non teme rivali in questo momento la sua velocità il suo engage il fastidio che porta alla composizione avversaria è enorme ma 3-1-13 3-1-13 al bianco di quel 3-2-12 di Twista che supporti signori PlayStation ha di carry ormai PlayStation anche lui dà la sua le tre uccisioni complementari di un po' tutti i membri di Samsung Morningstar qua trappolone attorno al drago maggiore un teletrasporto in qualità di Wondro letto dagli avversari sicuramente ma servirà agire e servirà a farlo in fretta Wondro in Dominus su Tidara Enze non si espone questo permette comunque la competizione guardali 1-2-3 tutti quanti in seguimento di Enze che semplicemente scappa potrebbero entrare con l'istinto omicida i danni ci sono il tribunal cap l'ingrazzano da durto l'omicidio di massa da parte Samsung Morrist con Ploxing a questo giro non si salverà così farà anche per Taba double kill anche per Twist e l'inseguimento a parte di Ike sembra essere verso la base vogliono chiudere effettivamente a del trasporto può facilmente iniziare la sua squadra nemmeno uno sguardo verso il drago maggiore non ce n'è bisogno mano del barone per ancora una manciata di secondi soltanto Taba a difendere ma nemmeno a difendere a cercare di litigare con questi due polpettoni di tank ma nulla che possa veramente fare per minacciarli immobilizzato poco da fare in ogni caso Senna rimarrà a combattere Fittol tornerà in vita ma le torri sono cadute il Nexus è scoperto e con essa la sconfitta la disfatta dei GG in esports GG Samsung Morningstar un importante punto in classifica per loro la ripresa di una serie di sconfitte decisamente amara per la squadra ma un'ottima partita è un'ottima dimostrazione che questo non è un team che si dà per perduto una bella ripresa una gran bella ripresa devo dirlo e questa prima partita mi ha lasciato un po' quello che mi stava promettendo dalla draft sono ben contento un ottimo modo per iniziare la giornata un ottimo modo per iniziare non solo la giornata il girone di ritorno vero una prima vittoria che comunque abbiamo detto per quanto quel fondo della classifica fosse affollato in ogni caso una vittoria ti porta comunque distante da loro e più vicina invece alle parti alte della classifica in ogni caso come sempre su Twitter votazione per l'MVP e andiamo un po' a vedere anche chi saranno i candidati tra Deidara, Yike e Flaystation interessante arduo perché tutti e tre hanno fatto da supporto barrazione individuale io capisco il voler premiare anche un po' questa volontà di playmaking alternativo però io vorrei che ci appoggiassimo anche un pochino più sulle statistiche grezze perché abbiamo visto prima dell'ultimo fight erano tre kill tre kill tre kill Enz ne aveva nove Enz ha fatto anche se non è stato spettacolare non era lui a ingaggiare non era lui a fare esplodere la gente puliva e faceva il lavoro di un ADKR quindi menzione d'onore se non altro che se non erano tre candidati mezzo d'onore e intervista addirittura proprio di Enz con Karen quindi a te eccoci qui bentornati siamo qui con Enz riduce da una vittoria tanta agognata ma finalmente è arrivata ciao 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 bello bene ma ben un pochino rilassato di finalmente ottenere la vittoria sì e volevo cominciare da questa in questa intervista perché Il vostro stile in questo gioco, non solo il vostro come Anz, ma il vostro come Samsung Morningstar era molto aggressivo, come qualcuno che si tratta di perdere. Mi ha dato questa impressione. Quindi, cosa c'era dietro la comunicazione in questo gioco? Sì, praticamente è quello che stavamo cercando di andare in questo gioco. Abbiamo deciso di andare in questo gioco, perché avevamo tantissime perdite in un gioco, e i nostri giocatori stavano ancora molto bene, ma non stavano funzionando nei gioco. Quindi abbiamo deciso di andare per gli aggressivi comps che eravamo davvero bene, e funzionò. Allora, abbiamo chiesto ad Anz che cosa stesse succedendo oggi a livello di comunicazione dietro alla squadra, perché l'impressione che ci hanno dato è quella di un team stanco di perdere. Ed effettivamente Anz ha dato conferma di questo. Nonostante si fosse reso conto che alcune cose stavano andando bene in Scream, in generale che stavano provando delle composizioni che tenevano ad usare un pochettino di più, oggi hanno deciso di andare per qualcosa di veramente aggressivo, perché volevano portare a casa questa vittoria. So, talking more specifically about the draft, you were playing a Kaisarel duobot, che è, in questo momento in questa meta, una molto forte backline diving comp. Quindi, quali sono le key momenti in un conto di bicara in BD comp mentre la comunicazione di comunicazione? Perché hai bisogno di coordinate non solo un U.N. Rhael, ma Orianna con il shockwave e cose che stai. So, in mio opinion, è una tacme di un quattro secco. Quindi, qual'è la comunicazione dietro l'engagement che ti ha portato a vincere? Cioè, c'è un po' di parlare e rispettare i flash timers, quindi quando vediamo un'opportunità sui nemici con non flash o qualcosa di così, i Temeralli stanno chiamando per guardarlo e andare sui stessi target, chiamando target in teamfights, quando ulti, e così via. E' quasi tutto, giocando i flash timers. Allora, abbiamo chiesto a Denz qualche delucidazione ulteriore sulla composizione che stavano giocando, perché non solo stavano giocando Kaisarel, una delle composizioni da bottom lane più aggressive disponibili attualmente sul meta per i dive sulla backline nemica, ma c'era anche Orianna, quindi si dovevano coordinare diverse abilità per permettere dei dive puliti come quelli che alla fine abbiamo visto portare i Samsung alla vittoria. Ha sottolineato che la comunicazione riguardava principalmente il rispettare i flash avversari, quindi ogni volta che si trovava un bersaglio avversario senza il flash, abilità chiave per sfuggire all'ingaggio della loro composizione, decidevano di andare a premere il grilletto. Quindi in realtà era un tipo di comunicazione molto minimalista, incentrata appunto sul cercare di abusare di avversari senza flash. L'ultima domanda. Abbiamo parlato prima, anche con Noodles, che non importa se sei 14-0, o se sei la maggior parte di wins che potrebbero essere in playoff, che potrebbero essere in playoff, poi potrebbero essere in playoff e poi potrebbero essere in un nuovo torneo in Split Series. Allora ora, qual'è la tua mente come team per la seconda parte della split? Abbiamo cercato di tornare a tornare a una scena di scena e avere una buona posizione in playoff o fare in playoff in generale. Abbiamo visto la prima parte della split, quindi stiamo cercando di essere in buona condizione in playoff e spero di ottenere un po' di win. All right. Abbiamo chiesto qual è l'intenzione dietro il team riguardo alla seconda metà di campionato. Abbiamo sottolineato, prima parlando neanche con Noodles, che non importa con che punteggio si arriva ai playoff, un 14-0 e un team che porta a casa il minor numero di vittorie possibili sono comunque entrambi ai playoff. Ovviamente la struttura dei playoff del PG Nationals va a premiare in maniera anche più che abbondante chi si qualifica bene. Infatti Enza sottolinea che da parte loro l'obiettivo per la seconda metà dello split è il cercare di migliorare il punteggio il più possibile in modo da non arrivare solamente ai playoff, ma arrivarci in una posizione comoda. So, Hans Van, again, congratulations for the win for the amazing performance from every one of you and hope to see you again here soon. Yeah, thank you. See you. Ed eccoci qua, eccoci qua. Qua ritrovati con Enza che ancora ancora lo vedo un po' hanno bisogno di ricaricare questi Samsung, però questa vittoria molto semplice di esecuzione ma molto molto efficace. il martello è tornato, è stato tirato fuori e ha funzionato di nuovo. E voglio anche subito partire dicendo che mi avevo piaciuto la draft di Samsung a questo giro, una draft facile da eseguire e che poteva mettere effettivamente i player in una posizione di comfort con Yike avevo un ingaggio molto immediato con Udyr e poteva essere seguito benissimo da Kaisarel, c'era proprio con la palla di Orianna e anche ulti di ora, proprio una comp quadrata a tutto tondo che ha permesso ai Samsung finalmente di mostrare una prestazione di squadra. Quindi molto bene questa cosa e questa è la direzione che voglio vedere a prendere dai Samsung. Niente più di quelle comp dove se magari vai behind su una lane in early game poi diventa un po' difficile da eseguire anche perché magari mette un po' più pressione i giocatori in un momento già non troppo facile. Quindi questo è quello che voglio vedere e... bravi! Finalmente i Samsung sono tornati a un livello che mi aspetto da loro. Poi voglio parlare di come hanno preso vantaggio i Samsung ma prima voglio vedere chi alla fine è diventato il player più ricco tra tutti. Qual è il Buddy Bank Riches player e niente po' po' di meno che Enz, ricchissimo, agguerrito come non mai con una sua Kaisa davvero devastante. Beh, ne parlava anche Moonboy in uscita dal Desk dove comunque l'unica cosa che non ha portato Enza ad essere tra i tre candidati per l'MVP è il fatto che comunque fosse una composizione creata intorno alla sua Kaisa e alla possibilità di daivare tranquillamente la backline. Kaisarel, personalmente, penso sia attualmente una delle composizioni da corsia inferiore più opprimenti che si stanno in competitivo perché appunto, ce l'ha detto Enza stesso, sembra una composizione che richiede tanta coordinazione ma in realtà tutto quello che devi fare è tenere il timer dei flash. Quando vedi un avversario senza flash sai che puoi ingaggiarlo e... Abbiamo visto nella transizione dall'early al mid-game comunque GG e Esports provare a riprendersi, provare a rispondere a questi ingaggi. Quando Enza ha preso un po' troppe risorse la possibilità di risposta degli avversari è stata zerata. Sì, infatti, una cosa che voglio anche specificare sia chiaro, non sono stati perfetti oggi Samsung. Cioè, a livello di esecuzione hanno ancora fatto tanti errori. Soprattutto Twist non mi ha convinto manco oggi, se devo essere sincero. Cioè, le ulti erano buone ma come ha gestito la partita anche... Mi viene in mente lo swap al minuto 8 in questo ho preso neanche overestendere ma se ti hai la botta in quella posizione sai che il jungle non è a coprirti la wave? Non può andare a pushare se non vedi Ekarim. Anche perché Ekarim è un campione che ha un ingaggio molto facile. Detto ciò però... Comunque i DG come dicevano bravi a rientrare in partita quando gli si è concesso l'opportunità. Molto bravo Ploxy, probabilmente il migliore della sua squadra a concatenere anche molto spesso gli ingaggi di... non di Free Station ma di Fittal. Un po' meno bene The Ace onestamente. Forse era meglio che continuasse a giocare i su Ekarim perché oggi quel Viktor non mi è piaciuto molto, se devo essere sincero. Molte volte fuori posizione e molte volte moriva ancora prima di poter fare danno nel teamfight. Ed effettivamente volevo parlare anche di questa cosa, ovvero un eventuale tiratore in corsia centrale perché adesso siamo passati ad una nuova dimensione. Adesso sappiamo che Senna è una D-Carry da DPS e tra l'altro quello swap avrebbe potuto favorirla tanto perché stava farmando anime su Horn come Punch in Ball. però Deidara. Deidara è su di lui che mi voglio concentrare in questo frangente di discorso perché essere in grado in uno swap di contestare l'ADC avversario, portarsi a casa entrambi gli incantesimi dell'Evocatore vuol dire che Senna non è più neanche comoda nello swap a prendere esperienza in side lane, vuol dire che ogni volta la minacci e ogni volta deve giocare da un range sicuro e non è di certo quello che vorresti fare in un matchup Senna contro Mili. anche perché Senna da Krakenslayer, per quanto sia un tiratore da DPS scala verso la sua forma da tiratore da DPS ha bisogno almeno di un oggetto e mezzo se non due oggetti interi prima di fare danno e contro Horn non c'è mai arrivata. Quindi possiamo permetterci di dire alla fine di questo Analyse Desk grande Deido Poggers? Confermo, confermo al 100%. Ok, perfetto. Bravissimo Deido. Allora detto questo, signore e signori, noi ci...